Best for Soil. Disinfestazione anaerobica del terreno. Informazioni pratiche. Che cos'è e come puoi applicarla. ASD passo dopo passo. Ciao, sono Lendert, scienziato all'Università di Wageningen in Olanda. Vi informerò sul metodo di disinfestazione anaerobica del suolo, denominato ASD. In un altro video di Best for Soil vi fornirò informazioni sui vantaggi e gli svantaggi dell'ASD. Che cos'è l'ASD? Il termine ASD significa disinfestazione anaerobica del terreno. È un metodo che crea condizioni anaerobiche temporanee limitate allo strato superiore del terreno. La maggior parte dei patogeni e dei nematodi non è in grado di sopravvivere in condizioni di carenza di ossigeno e quindi muore. Il metodo ASD è stato sviluppato nei Paesi Bassi e in Giappone, basandosi sull'osservazione che i terreni che sono allagati per un lungo periodo subiscono meno infestazioni da agenti patogeni o nematodi presenti nel suolo. Questo effetto è legato alla mancanza di ossigeno in questi terreni. L'ASD è un metodo per creare condizioni anaerobiche in modo artificiale anche in aree non adatte all'inondazione. La corretta gestione dell'ASD richiede l'applicazione di una tonnellata di materiale vegetale fresco, erba o sovesci per ettaro per centimetro di profondità nel terreno. Spesso 40 tonnellate per ettaro vengono incorporate in 40 centimetri di profondità del suolo. Il terreno deve essere bagnato o esserlo stato. La superficie viene poi ricoperta da un film plastico che, a seconda degli organismi bersaglio, dovrebbe restare in sede per almeno sei settimane. Fondamentalmente ogni fonte di materiale vegetale fresco funziona. Questo può essere erba appena falciata o i resti del cavolo appena raccolto. Il prerequisito è che sia fresco, quindi niente paglia, fanghi o composto. I risultati sono migliori su terreno sabbioso. I risultati sul terreno argilloso sono più variabili. Nell'ASD non sono coinvolti glucosinolati. Nell'impossibilità di interrare materiali vegetali freschi, si possono utilizzare prodotti sostitutivi ottenuti presso le industrie agroalimentari per ottenere risultati più affidabili, specialmente su terreni più pesanti. È molto importante una buona distribuzione del materiale organico nei primi 20-40 centimetri di terreno. Più finemente viene tritato il materiale, più facile sarà la colonizzazione del substrato da parte dei batteri e più rapido sarà l'esaurimento dell'ossigeno. L'umidità del suolo dovrebbe raggiungere la capacità di campo per avere una maggiore efficacia in termini di sviluppo microbiologico del suolo, consumando la sostanza organica e usando l'ossigeno. Il film plastico che viene posizionato a copertura del terreno, VIF, viene utilizzato per prevenire la penetrazione dell'ossigeno nel terreno. Gli organismi del suolo consumano tutto l'ossigeno. Per questo motivo, i batteri che sono attivi in condizioni anaerobiche si moltiplicano fortemente e prendono il controllo della biosfera del suolo. Questi producono tutti i tipi di composti tossici, ad esempio acidi grassi volatili, che controllano molti parassiti e malattie. Quando si verificano fori sul film plastico, ad esempio causati da uccelli selvatici, devono essere chiusi al più presto. Sebbene non sia il metodo più semplice, è un metodo che presenta buone opportunità per risolvere il problema. Controlla il video 3 per informazioni sull'efficacia, per altri vantaggi, ma anche svantaggi. Grazie. 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 Grazie.